Aggredito con calci e pugni, la ex compagna che lo aveva ospitato nella sua abitazione, nel centro di Pistoia, per la notte, poi è fuggito strappandole di mano il cellulare. Per questo un 45enne di nazionalità marocchina, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, per questo motivo era stato ospitato per una notte dalla ex compagna sua connazionale, è stato arrestato per rapina dai carabinieri, chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena davanti alla casa della donna. A scatenare la furia dell'uomo forse è stata la celosia poiché la donna si sarebbe sentimentalmente legata ad un'altra persona. I militari hanno bloccato e arrestato il 45enne che è stato trovato anche in possesso di un coltello posto sotto sequestro. E sempre i carabinieri di Pistoia hanno identificato e denunciato i due autori di un furto con destrezza avvenuto ai danni di una gioielleria di via provinciale lucchese a Serravalle Pistoiese. Il 29 gennaio scorso, quando una coppia di stranieri, dopo essersi introdotta nel negozio con la scusa di un acquisto, aveva distratto la titolare ed era fuggita con 500 euro in contanti prelevati con destrezza dalla cassa. I due si erano poi dileguati con una BMW, della quale erano stati annotati da un passante i dati parziali della targa. I carabinieri della locale stazione hanno condotto una rapida indagine e identificato i due autori, cittadini pakistani, un 43enne con qualche precedente di polizia a suo carico, e la moglie, 38enne incensurata, residenti in provincia di Caserta.